buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andiamo a vedere assieme come poter collegare il nostro portafoglio trust wallet ai decks decentralizzati pur avendo un iphone tutto questo subito dopo la sigla come abbiamo già letto in questo comunicato su trust wallet community dell'8 giugno il tasto d'app all'interno del portafoglio trust wallet su ios è stato rimosso a partire dall'aggiornamento versione 6.0 questo tasto verrà completamente cancellato perché il browser d'app verrà completamente rimosso come leggiamo tutte le app ios devono essere conformi alle linee guida di apple per essere elencate nel loro app store le dap per natura costituiscono codice non incorporato nel binario e devono soddisfare diversi criteri per essere consentite in app ios nell'ultimo anno il team è stato in comunicazione con apple per comprendere e risolvere questo problema ma tuttavia per continuare ad aggiornare la versione ai est di trust wallet hanno dovuto levare il tasto da browser nelle versioni passate e future per ovviare a questa problematica soprattutto per gli utenti ios è possibile utilizzare wallet connet come vi farò vedere in questo piccolo tutorial per ovviare a questa problematica sul portafoglio tra su wallet non è più possibile da qualche mese riuscire a sbloccare il tastino d'app per andare a connettere appunto tra su wallet alle applicazioni decentralizzate come possono essere pancake swap o duny swap possiamo ovviare a questa problematica utilizzando un metodo di collegamento alternativo che è chiamato connet wallet questo connet wallet è un protocollo open source che permette di collegare i nostri portafogli alle applicazioni decentralizzate scansionando semplicemente un codice qr o andando a cliccare nella piattaforma di riferimento il link su connet wallet e adesso vi farò vedere come funziona passando alla modalità smartphone andiamo a vedere come connettere il nostro portafoglio tra su wallet dall'iphone a pancake swap visto che hanno tolto il tasto d'app dobbiamo andare su safari clicchiamo su safari andiamo su pancake swap finance andiamo su exchange a questo punto facciamo connetti ma non andiamo a cliccare trust wallet ma andiamo a cliccare su wallet connet a questo punto vedete che ci aprono tutte queste possibilità noi andiamo a cliccare il tastino di trust wallet open interest wallet diamo l'ok a questo punto ci verrà richiesta la firma digitale attendiamo il caricamento della pagina facciamo connetti perfetto adesso noi possiamo tornare indietro quindi sfogliamo la pagina andiamo su pancake e come vedete in alta destra c'è praticamente il mio address in questo caso io posso fare tutte le operazioni che facevo prima direttamente da trust wallet collegandoci al tasto d'app quindi abbiamo in questo momento ovviato al problema della mancanza del tasto delle applicazioni decentralizzate nel portafoglio di trust wallet su dispositivi apple la stessa cosa la potete fare ad esempio su uniswap andando a cercare uniswap poi si va a cliccare su launch app connetti portafoglio andiamo a fare la stessa procedura wallet connet clicchiamo su trust wallet open interest wallet andiamo ad accettare come abbiamo fatto prima la firma digitale e adesso possiamo tornare indietro andare a riscrivere uniswap lanciamo l'applicazione e come vedete in alto a destra è apparso il mio address di trust wallet quindi esattamente come abbiamo fatto su pancake swap anche con uniswap in questo momento non possiamo andare a fare i nostri scambi e ad operare liberamente pur essendo in assenza del tasto d'app tramite iphone su trust wallet bene siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento spero che il video sia stato di vostro gradimento l'abbia trovato utile mi raccomando lasciatemi un like e iscrivetevi al canale ma soprattutto iscrivetevi alla nostra community telegram per ricevere supporto ed essere in continuo contatto con me oppure con tutti gli altri membri della community stessa noi ci vediamo presto ciao a tutti ciao 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 ciao